La lampadina intelligente PNI Smart Home SM9WLED è un dispositivo che può essere controllato a distanza attraverso lo smartphone o tramite dei comandi vocali se l'applicazione dedicata a Brightfun, scaricabile gratuitamente da Google Play oppure App Store, viene sincronizzata con Amazon Alexa o Google Home. Le caratteristiche tecniche sono, usa la rete Wi-Fi nella banda 2.4 GHz, tensione di alimentazione 230 V, potenza 9 W, intensità luminosa 800 lumen, tipo di presa E27, angolo del fascio luminoso 270 gradi, applicazione dedicata, compatibile con Android e iOS. Grazie Grazie